esiste una persona che viaggia in tutto il mondo e che fa visita ad ogni bambino ovunque sia chi è sì sì esatto è babbo natale si assicura che i bambini di tutto il mondo ricevano i regali dei loro sogni è piuttosto stretto qui dentro ero convinto che i cammini fossero più larghi matteo ciao sono così felice di vederti come puoi vedere cerco di intrupolarmi nei cammini per consegnare i regali di natale aspetta un attimo fammi controllare quale regalo dovrei consegnarti quest'anno vediamo oh c'è una tua foto oh che bello ma non vedo il tuo regalo da nessuna parte non penso che i miei elfi se ne siano dimenticati non è da loro non preoccuparti lo scopriremo torniamo alla fabbrica dei regali aspetta un secondo perché sento puzza di bruciato bambino natale tornato coi regali chiave ha chiesto cannocchiali bracciali ce n'è per tutti matteo presto scoprirai cosa riceverai per natale quest'anno nella mia casa c'è una stanza magica segreta dove si trovano tutte le risposte andiamo questa è la mia libreria magica su questi scaffali c'è un libro su ogni bambino oh penso che questo sia il tuo libro sta cercando di mostrarci qualcosa vediamo di cosa si tratta è lì che vivi vero ma che cos'altro abbiamo qui matteo so che passi tutto il tempo a casa ho sentito che ti piace giocare ai videogiochi oh che bello è adorabile va bene va bene andiamo tutto questo camminare mi ha fatto venire voglia di uno spuntino di un pisolino presto scopriremo il tuo regalo oh e voi che ci fate qui batuffolo paco le mie piccole stelle ci vediamo a cena ciao matteo c'è un ingresso segreto alla fabbrica dei regali da qualche parte qui solo elfo guardiano può farci entrare speriamo sia di buon umore elfo guardiano posso entrare sì sì riferisco dice che la parola d'ordine è la tua età matteo ricordami quanti anni hai oh certo hai già quattro anni ce l'abbiamo fatta la parola d'ordine ha funzionato ma andiamo matteo questa è la nostra fabbrica dei regali è qui che vengono realizzati i regali per tutti i bambini del mondo guarda con attenzione questa è la nostra magica macchina che crea i regali vediamo dov'è il tuo regalo elfo supervisore guarda questa foto abbiamo il suo regalo soltanto un secondo vediamo niente nessun problema sono sicuro che cercando bene davvero sì va tutto bene allora l'abbiamo trovato fantastico il regalo ora dobbiamo solo assicurarci che tu sia sulla lista dei bambini buoni andiamo in ufficio mi puoi aiutare bisogna battere le mani e ripetere ad alta voce per la neve si va di sicuro si arriverà per la neve si va oh ce l'abbiamo fatto non c'è posto migliore che essere vicino al cammino bene forse dovremmo riposarci un po' sì sì dopo tutto dobbiamo prenderci cura di questa grande pancia molto indaffarata oh e questi sono i miei piccoli aiutanti ci divertiamo molto insieme che birbantelli avete mangiato tutta la torta di mele che non vedevo l'ora di mangiare sì sì sto parlando con voi stanno fingendo di non sentirmi come al solito oh ciao eric mi aiutaresti con il libro matteo penso che sia meraviglioso che tu ami così tanto i tuoi genitori so anche che quest'anno sei stato molto bravo a quanto pare a volte fai un po' di capricci è vero farai uno sforzo lo prometti ho anche una raccomandazione speciale per te non fare i capricci con la mamma vorrei mostrarti le foto di persone molto speciali e importanti che ti vogliono molto bene ti amano con tutto il loro cuore chi pensi che siano conosci queste persone ti amano così tanto non è meraviglioso dopo aver visto questo video ricordati di dare loro un grande abbraccio e ora la parte più importante chiediamo ai miei elfi che ti hanno osservato per tutto l'anno se sei sulla lista dei bambini buoni cari elfi qual è la vostra decisione allora cosa ne pensate lista dei bambini buoni o no avete deciso allora evviva ben fatto è fantastico sono così orgoglioso di te complimenti congratulazioni da parte mia e dei miei elfi continua così non avevo dubbi che tu fossi sulla lista dei bambini buoni molto bene va bene ora vado ci vediamo presto buon natale ciao ciao is the season to be jolly